Nome Marco Luca Cognome Berratti Berardocco Squadra in cui giochi Pescara Calcio Pescara Squadra per cui fai il tifo Juventus Pescara E Milan Ruolo Centrocampista Centrocampista centrale Dove vuoi arrivare? Pino alto possibile speriamo La speranza c'è sempre di arrivare il più alto possibile Poi dipende da me Dare sempre tutto ogni giorno in allenamento Poi si vedrà già Sei bravo a scuola? Non tanto Ero bravo abbastanza Dici la tua materia preferita se ce n'è una Lezione fisica Mi piacciono le lingue Spagnolo, inglese Cosa fai nel tempo libero? Andesco con gli amici Esco con gli amici e basta Il computer Mi piace guardare i film Ascoltare la musica Quale squadra scegli quando giochi alla Playstation? Napoli Barcelona Il coro da stadio che canti più spesso? Da Pescara faccio un gol Mi porto un attimo preparato Forza Pescara Luttare con noi Forza Pescara Luttare con noi La persona più importante della tua vita? La famiglia I miei genitori E le mie tessorelle E i miei amici Il tuo pregio calcistico? Tecnica Il fatto di non me lo rimane Secondo me Il tuo difetto? Difetto molti Fasi difensiva forse Devo migliorare un po' nella corsa E avere un po' più di grinta ogni tanto Secondo me Il compagno di squadra più forte? Buon anno Ci sono tanti Secondo me Verratti Marco Il tuo idolo di sempre? Nel Piero Da bambino è Ronaldo Però adesso ho visto che faccio il centrocampista Mi piace molto Pirlo Con quale grande calciatore ti piacerebbe giocare un giorno? Nel Piero Il centrocampo con Pirlo Sarebbe un sogno Ora vi mettiamo a confronto Chi è più forte tra voi due? Luca Lui Chi è più simpatico? Io Lui Chi è più Latin lover? Luca Io Come descriveresti il tuo amico? Sicuramente farà carriera Fortissimo Fai una bella dichiarazione d'amore a Federica Rogato Non l'ho detto mai ma io ti amo Federica Federica Ti amo Adesso invece guarda in camera e manda a quel paese Mister Di Francesco Mister Ma va Questa la dai Mister Dai un consiglio per il futuro calcistico al tuo amico Io sa tutto Sa fa tutto già Di rimanere sempre così Che Fa la strada Salutalo Ciao Ciao Marco E infine un saluto ai telespettatori di Vitamina S La saluto veramente Ciao a tutti i telespettatori di Vitamina S Ciao a tutti quanti Mi raccomando Sempre Forse Pescara Posso?